Ciao, sono Massimo, benvenuto nel nostro negozio di computer telefonia Schaula di Villafranca Padovano. Dal 99 offriamo alla nostra clientela prodotti informatici, tecnologici e di telefonia acquistati dai più grandi distributori europei. Oltre a consigliarvi nell'acquisto, offriamo un servizio di post vendita per quanto riguarda l'assistenza e la riparazione di prodotti informatici, smartphone, telefonia, computer, notebook. Quindi vi aspettiamo nel nostro negozio Schaula di Villafranca Padovana e potete comunque seguirci nei nostri social.